Lorella, 41 anni, Bontebello, Vicenza Concorrente numero 2, Luigina, 38 anni, Paloan Concorrente numero 3, Rossella, 46 anni, Paloan Se vedete il marito da qui ha un sorriso Concorrente numero 4, Luisa, 33 anni, Napoli Concorrente numero 5, Cristina, 39 anni, Paloan Concorrente numero 6, Maria Grazia, 37 anni, Paloan Concorrente numero 7, Luigina, 28 anni, Bagnoli di sopra, Paloan Concorrente numero 8, Emanuele, 40 anni, Bagnoli di sopra, Paloan Concorrente numero 8, Emanuele, 40 anni, Paloan Concorrente numero 9, Emanuele, 40 anni, Bagnoli di sopra, Paloan Ecco, lieviamo a tutte queste nostre mamme Ecco, lieviamo a tutte queste nostre mamme Allora, adesso come funziona? Adesso i numeri che chiamo fanno un passo indietro, va bene? Silenzio. I numeri che chiamo fanno un passo indietro. Allora, numero due. Un applauso a quelle che vengono eliminate. Numero tre. Ve l'ho detto che da domani potete prendere i miei giudici, guardatemi bene. Numero cinque. Numero sei. Numero sette. Quindi stringetevi quelle davanti e si stringono. Allora, tra questi tre, secondo voi chi vince? Il quindici. Bravo, è come sempre Vanni, è indovinato. È bravo. Allora, quella che chiamo adesso fa un passo indietro, si mette in parte là e riceve il terzo premio consegnato dalla Paola, va bene? Allora, vince il terzo premio. Luisa Musto, 33 anni, di Napoli, numero quattro. Ecco il premio consegnato dalla Paola. Ricordo che poi si devono dispensare i baci anche da il DJ e il presentatore. Questo è chiarissimo per tutti. Allora, chiamo la Presidente di giuria sopra questo calco. Con la Corona in mano la Presidente di giuria. La Presidente di giuria dà la Coppa in mano. No, la Presidente di giuria dà la Corona. Mette la Corona alla Presidente. Bene. Allora, siamo pronti? Le altre abbracciano, baciano o altro che vi ho spiegato oggi alle prove. la vincitrice. Allora, vince questo concorso di Miss Mamma 2004 e canteggio vittoria. Concorrente numero uno, Lorella Pesaventa, 41 anni, Monteverno, Vicenza. Un applauso! E al secondo posto, solamente per un punto, Emanuele Amarino, 42 anni, Fosso. Permettevi che facciamo una bella foto. Allora, anche nel Miss Campeggio, qui per la foto, tutte le bambine, tutti quanti. Bene. Allora, adesso il DJ e l'animatore facciano le vincitrici. Aspetta, adesso lo rifacciamo.